. GF Vip News, Cecilia e Ignazio e la proposta di matrimonio VinZuiden. . Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo il GF Vip, la verità sulle nozze. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, video virgola fanno sul serio, la neocoppia, nata circa due mesi fa, sarebbe già pronta a promettersi amore eterno. . Lo ha annunciato la giovanissima modella argentina durante un recente evento, in discoteca, di cui è stata ospite. . Scopriamo tutti i dettagli al riguardo e le novità sulla giovanissima coppia e non solo, anche le ultime dichiarazioni che la Rodriguez ha rilasciato sul conto di Francesco Monte, il suo ex compagno. Gossip New, nozze in vista per Cecilia e Ignazio. . Gran parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2, video, che hanno seguito la storia d'amore tra Cancelletto Cecilia e Ignazio, sarebbero stati pronti a scommettere nella fine di questa relazione. . Contrariamente al pensiero che accomuna molti fan, Ignazio e Cecilia stanno dimostrando di essere una coppia stabile sebbene si tratta di una relazione ancora molto giovane. . A quanto pare, però, il tempo non è essenziale per la seguente neocoppia in quanto la Rodriguez ha pubblicamente annunciato i confetti con il suo ben Moser. Mi ha promesso di sposarmi ha dichiarato pubblicamente Cecilia nel corso della sua ospitata in discoteca, annunciando ulteriori particolari della propria storia d'amore, l'uscita dalla casa è stata complicata perché avevamo tutti i riflettori puntati su di noi. . In realtà è stato più difficile vivere al di fuori che dentro il reality ma ci siamo sostenuti reciprocamente. Ah, poi, aggiunto, adesso abbiamo deciso di riprendere a vivere le nostre vite ma insieme. Cecilia Rodriguez, ultime parole per Francesco Monte. Con Francesco Monte è un capitolo chiuso, punto. Tra di noi è andata così ed evidentemente doveva finire in questo modo. Quello che avevo da dire l'ho detto chiaramente a lui. E' vero che eravamo entrambi molto legate alle nostre famiglie e tra noi resterà un rapporto bellissimo ma anche la fine di una relazione fa parte della vita, ha dichiarato Cecilia riferendosi a Monte e concludendo, così, le numerose discussioni su Francesco che sono ancora argomento di molte fonti di cancelletto gossip presenti sul web. . Tralasciando la relazione passata tra la Rodriguez e l'ex tronista, siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni in merito che potete rilasciare nell'apposito spazio riservato ai commenti di questa news. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi scoop, potete seguire i nostri aggiornamenti cliccando sul tasto segui che si trova in alto, sopra il titolo di questa news. . . . . . . Grazie a tutti